Il nostro sciopero è una protesta contro il riempimento della nostra scuola. Noi scioperiamo per richiedere alla provincia di non far entrare altre 12 classi insieme alle 10 che già abbiamo, ma farne entrare soltanto 7. Per un semplice motivo che noi del Masi non vogliamo perdere altri laboratori che sono già andati persi con l'entrata del Poerio e vorremmo mantenere dei servizi che sono presenti soltanto al piano terra dell'ala destra della nostra scuola. Ma i vostri colleghi del Poerio stanno entrando adesso oppure no? I nostri colleghi del Poerio da voci che girano entreranno giorno 3, cioè dopo le vacanze per le feste dei morti. Il problema sarà che le nostre, tre delle nostre classi si ritroveranno in aule non adattate ad aula, cioè senza neanche un comfort, senza lavagna e lim e computer. Voi siete sotto la provincia protestare, sapete che però non avrete alcuna risposta nella provincia. Questo sì, è normale. Noi la cerchiamo come negli altri scioperi che abbiamo fatto, però già sappiamo che non avremo mai una risposta da loro. E quindi adesso cosa con te devi fare? Andare avanti all'oltranza oppure questa è l'ultima giornata? Allora, questa è l'ultima giornata che faremo per ora. E aggiorneremo gli scioperi se ce ne saranno altri dopo le feste dei santo.